in queste domeniche di quaresima la liturgia ci propone alcune figure che sono un'immagine del battezzato domenica scorsa la samaritana che è colei che ha sete e trova colui che le dà l'acqua viva oggi il cieco nato che è colui che è nella tenebra e riceve la luce che è cristo e domenica prossima lazzaro che è colui che fa il passaggio dalla morte alla vita sono tutte immagini del battezzato e con questo la liturgia quaresimale ci aiuta a fare questo cammino di scoperta di approfondimento di quel dono che noi abbiamo ricevuto di quella vita che è dentro di noi oggi il cieco nato quindi la tenebra e la luce e già l'arte antica cristiana aveva capito quanto è importante questo tema e metteva così attenzione all'occhio agli occhi perché la nostra fede vede l'uomo come un essere che riceve la luce che riceve la luce che è cristo questo è l'uomo fondamentalmente questo cieco nato non è uno che ha veduto e poi a un certo punto è diventato cieco e adesso torna a vedere come vedeva prima lui è nato nella tenebra dunque per lui la luce è il passaggio a una realtà totalmente nuova è l'ingresso in una condizione totalmente nuova quando cristo vede questo cieco che cosa fa comincia a compiere le opere del padre dice bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno poi viene la notte quando nessuno può agire finché io sono nel mondo sono la luce del mondo cristo è venuto come la luce e deve compiere le opere del padre e il giorno è il suo passaggio in questa terra in questa nostra esistenza e lui deve compiere tutte le opere del padre fino a poter dire sulla croce quest'ultima parola è compiuto cioè ha compiuto tutte le opere del padre dentro l'umanità ha portato la luce dentro l'umanità ora l'umanità è capace di vivere a partire dal dallo dal soffio di dio e chinato il capo consegnò lo spirito per illuminare questa tenebra dell'umanità cristo compie alcuni gesti misteriosi su questo cieco sputa per terra con la saliva fa del fango poi spalma il fango sugli occhi del cieco e lo manda alla piscina di silo e a lavarsi sono gesti misteriosi santi reneo poi con lui alcuni padri hanno detto questa è la nuova creazione perché c'è come nella prima creazione la terra ma c'è anche il soffio la saliva con la saliva che il soffio condensato certo è che questo fango questa terra che è spalmata sugli occhi del cerco è la nostra umanità che da sola in se stessa è tenebra ma che significa tenebra significa capacità di ricevere la luce la luce di dio questo cieco non conosce cristo vede sente i gesti che lui sta facendo su di lui e poi sente questa parola e si fida e va a siloe la piscina dell'inviato e si lava e torna che ci vede sant'agostino dice perché ci vede perché si è immerso in questa piscina dell'inviato cioè in cristo e quando questo cieco torna che vede non è compiuta l'opera di cristo in lui è solo cominciato un itinerario un cammino del vedere e adesso questo uomo deve affrontare un po di prove siccome cristo ha agito in lui lui è sotto processo solo per il fatto che cristo ha operato in lui lui viene processato e deve raccontare tante volte quello che gli è accaduto e più lo racconta e più rimane fedele a quello che è accaduto nonostante lo vogliono depistare lui sempre di più vede comincia a vedere quello che è successo fino al momento in cui viene cacciato fuori dalla sinagoga viene scomunicato e questo è il momento più importante perché qui si dice che gesù seppe che l'avevano cacciato fuori cioè cristo lo ha come dire accompagnato quando lo trovò è cristo che trova il cieco gli disse tu credi nel figlio dell'uomo e gli rispose e chi è signore perché io creda in lui gli disse gesù lo hai visto è colui che parla con te lo hai visto per la prima volta questo uomo vede il volto di cristo e qui si può compiere il suo vedere infatti il vangelo usa un verbo nuovo prima diceva che il cieco adesso ci vede ma nel senso comune come vedono tutti gli uomini il verbo in greco è blepo le pain adesso si usa un altro verbo tu lo hai visto ora che nel vangelo di giovanni è il vedere della fede il senso del nostro vedere è proprio quello di arrivare a vedere il volto di cristo dalla parola dall'ascolto alla visione questo è il cammino che questo cieco ha fatto e lui non vede semplicemente il volto di cristo vede il volto di cristo che parla con lui e allora disse credo signore e si prostrò dinanzi a lui cioè in questo vedere lui riconosce l'inviato del padre vede cristo e in lui vede anche il padre qui si compie il vedere il signore vuole essere luce per portarci a questo vedere a vedere cristo in tutte le cose a vedere in cristo il padre questo è il vedere a cui siamo chiamati e poi cristo dice è per un giudizio che sono venuto nel mondo perché coloro che non vedono vedano questa è la prima faccia del giudizio dunque il giudizio non fa paura perché è questo che l'umanità nella tenebra vuole essere il luogo in cui cristo porta la luce e quelli ecco la seconda faccia del giudizio e quelli che vedono diventino ciechi e poi dice ai farisei se foste ciechi non avreste alcun peccato ma siccome dite noi vediamo il vostro peccato rimane c'è un vedere c'è una luce che non è vera luce dice gesù nel vangelo di matteo al capitolo 6 la lampada del corpo e l'occhio se l'occhio è semplice tutto il corpo sarà nella luce ma se l'occhio è cattivo tutto il corpo sarà nella tenebra e se la luce che è in te è tenebra che tenebra grande dunque che cos'è il peccato perché questo vangelo ci invita a fare un passaggio il peccato noi lo concepiamo normalmente come un fardello che ci portiamo dietro un'umanità ferita che ci spinge a cadere ancora ma questa pagina di vangelo ci invita a non concepire tanto il peccato in quest'ottica tant'è vero che ai discepoli che dicono ma se questo uomo è nella tenebra chi ha peccato lui o i suoi genitori gesù dice no né lui nei suoi genitori è un altro il senso di questa tenebra è perché in lui si manifestino le opere del padre dunque questo fardello questa tenebra che ci portiamo è semplicemente per dio il luogo in cui si manifestano le sue opere non è un problema è la possibilità di ricevere la luce e la persona nel suo cuore è proprio pura ricettività pura accoglienza è un mistero di relazione questo è il senso della verginità di maria maria vergine è pura ricettività ma la persona ognuna delle nostre persone nel suo cuore nel suo mistero è questa pura capacità di accogliere la luce di e che cos'è allora il peccato nella prospettiva di questo vangelo è che noi vogliamo possedere una nostra luce e allora arriva un gioco del nemico che ci fa vedere che questa nostra tenebra è una luce e e noi cominciamo a difenderla e non accogliamo non siamo più disponibili ad accogliere la luce di cristo e del padre se foste ciechi non avreste alcun peccato ma siccome dite noi vediamo il vostro peccato rimane quella liturgia che adesso prosegue con l'offerta di questa nostra terra il pane e il vino per accogliere la luce dello spirito è proprio questa nostra umanità che in cristo riceve la luce la luce del padre grazie a tutti